Primo giorno di Bomboplat Festival Siamo praticamente usciti dall'albergo e ci stiamo regando Verso il Bomboplat Festival Io vi ricordo che per i videoclip di Intour con Shack Sto utilizzando questi due macigni della Insta360 Che è la Flow e la X3 Vi lascio i link in descrizione Mi raccomando Yeah Massif siamo arrivati al Bomboplat Benvenuti alla terza puntata, al terzo episodio di Intour con Shack Siamo arrivati ma stanno facendo ancora il soundcheck E adesso let's go inside Anche se manca pochissimo allo staff del festival Quindi Yes I Anche se manca pochissimo allo staff del festival Vai, 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 vai Ok Anche se manca pochissimo allo staff del festival Anche se manca pochissimo allo staff del festival al pombo club festival Grazie a tutti 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 Grazie a tutti